Il sorbennato, il bene e l'amore vince sempre, è proprio così, lei ne è convinto? Ma se devo dire, diciamo così, la mia anima cinica in realtà dici di no, perché in realtà la vita è un pochettino più complicata però sicuramente il fatto che ci sia la possibilità di avere una prospettiva da happy ending nei film sicuramente è un modo fondamentalmente per far pace con i propri demoni interiori quindi io sono sempre dell'avviso della posizione dell'ottimista il tipo di sperare sempre nel meglio ma prepararsi al peggio quindi secondo me questa può essere un abboviatico per non lasciarsi prendere dagli intrighi e dai misteri che la vita ci riserva Professor Bennato, come si diceva da qualche parte, ma mi si nota di più se vado o mi si nota di più se non vado ad una mostra come quella di Venezia? Mi si nota di più se mi si nota di più, vado volendo dire una banalità In realtà a Venezia, diciamo così, la parte di passerella è una parte d'obbligo anche perché uno degli elementi importanti del meccanismo industriale del cinema sono le star, lo star system quindi anche tutti i rituali di messa in scena dei grandi personaggi dei film hollywoodiani ma anche della cinematografia italiana hanno questo di importante quello di focalizzare l'attenzione sul film e quindi anche sul come il film poi viene raccontato e interpretato quindi sicuramente ha una componente di glamour che è inevitabile anche se negli ultimi tempi il glamour è venuto un po' meno anche per Italia anche per l'atmosfera un po' culturale che si respira negli ultimi tempi ma è interessante vedere appunto come le persone reagiscono ai grandi personaggi del cinema anche perché il cinema d'altronde è sogno, quindi è bene vedere anche i protagonisti dei propri sogni che si materializzano Professor Bennato, Emilia Costantini, avete sentito questo che è stato detto su questo film suscita il vostro interesse, professor Bennato? Ma diciamo che non è precisamente il tipo di cinematografia che seguo però il fatto che sia tratto da un libro, da un romanzo di Aldo Nove mi incuriosisce perché Aldo Nove ha tutto uno stile suo particolare quindi mi incuriosirà vedere appunto la differenza rispetto al romanzo come spesso capita quando il cinema trasferisce la letteratura in immagini Professor Bennato, brevemente cosa aggiunge? Sui divi? Beh, diciamo che non esiste cinema senza divi quasi tutti, diciamo così, chiunque abbia mai studiato cinema sa perfettamente che il cinema si basse su tre puntelli che sono lo studio system, lo star system e il sistema dei generi quindi sicuramente le star, il divo, colui che attrae, il grande nome, il grande interprete sicuramente ha un ruolo strategico sia nel meccanismo narrativo che soprattutto nel meccanismo di promozione Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!